Questo video riguarda i migliori 3 monitor verticali. Il vincitore della qualità è la OC24G2. Goditi la migliore qualità delle immagini anche durante i giochi frenetici. La tecnologia AMD FreeSY-NC Premium garantisce che le frequenze di aggiornamento della GPU e del monitor siano sincronizzate per un'esperienza di gioco fluida e senza frame alle massime prestazioni. Con una frequenza di aggiornamento di 144 Hz, ogni immagine viene renderizzata in modo nitido con transizioni senza interruzioni in modo da poter posizionare i tuoi scatti con precisione e goderti al massimo le corse ad alta velocità. Espandi l'area di visualizzazione con una configurazione multi-monitor. Il bordo stretto e il design senza cornice assicurano distrazioni minime, rendendola la stazione di battaglia definitiva. Un tempo di risposta pixel di 1 ms significa velocità senza sacrificare per una migliore esperienza di gioco. Le scene d'azione con movimenti rapidi e transizioni drammatiche sono implementate senza problemi e senza fastidiosi effetti fantasma. Puoi trovare il miglior prezzo direttamente sotto la descrizione del video. L'alternativa è il AOC1-2490PXQ. monitor professionale Full HD 24 con supporto ergonomico e ab usb. Il pannello IPS Full HD offre un'elevata precisione dei colori e un'ampia gamma di colori. Non importa se stai guardando foto, video, riviste in InDesign o giocando il tuo gioco preferito, vogliamo che i tuoi contenuti siano eccellenti da qualsiasi angolazione. La tecnologia AOC Flicker Free utilizza un pannello di retroilluminazione DC, che riduce i livelli di luce lampeggiante. Con l'affaticamento visivo e la fatica minimizzati sentiti libero di goderti comodamente le lunghe e intense sessioni di gioco. Il design senza cornice a tre lati del monitor consente all'utente di concentrarsi sullo schermo vivido, e gli spettatori godranno di un aspetto elegante e moderno da ogni angolazione. Ci preoccupiamo del vostro benessere. Ecco perché questo monitor offre opzioni di regolazione dell'altezza, che consentono di trovare la postura perfetta durante il lavoro, la riproduzione o la visione di video. Il vincitore del premio è l'ITEC GGF Gaming. Display piatto da 24,5 pollici, con risoluzione 1920x1080 pixels, nuova tecnologia Fast IPS, display luminoso ed elevato contrasto, tempo di risposta di 1 ms, con casse audio e altoparlanti integrati, pannello LCD frequenza di 144 Hz per sequenze in movimento perfettamente nitide. Monitor Freezing, compatibile con le tecnologie HDR e GSYNC, risolve lo screen tearing e lo stuttering, rende le immagini nitide e pulite e piene di dettagli, i neri profondi, rende le sequenze in movimento fluide. Compatibile con tutte le console presenti sul mercato, è indicato per gaming e designer. Resa ottima con giochi ad alta dinamica, grafica professionale, animazioni, video e film, programmi di sport. Attacco DisplayPort, HDMI 1.2 presa USB e jack audio, funziona con tutte le schede video. Robusta scocca in materiale plastico colore nero, rifiniture accattivanti e stilose, schermo antiriflesso, attacco VESA per attacco con staffa fissa o snodabile. Se il video vi è piaciuto, saremmo lieti di ricevere un mi piace e un commento.